Buongiorno a tutti, ben ritrovati carissimi telespettatori di FanoTV, oggi è lunedì 28 gennaio 2015, siamo ormai dopo le feste natalizie, ci stiamo avvicinando all'ultimo giorno dell'anno e lo stiamo facendo e lo faremo insieme con i nostri consueti programmi che tornano dunque dopo la pausa natalizia, è il primo ad aprire la giornata informativa, è senza dubbio questo ormai da dieci anni a questa parte, la rassegna stampa con un'occhiata ai giornali che daremo tra un istante, prima come di consueto guardiamo il santo del giorno, oggi santi innocenti martiri la chiesa ricorda, il sole sortò alle 7.40, tramonterà alle 16.37, andiamo sul meteo.it un attimo per vedere che cosa cambierà nei prossimi giorni, adesso ancora questi sono gli ultimi giorni di questa situazione un po' stabile da settimane, ultimi giorni di calma piatta, gelo già dal 31, poi pioggia e neve dal 4 di febbraio, dal 31 di gennaio arriva questa irruzione gelida da est verso il nord est, poi la pioggia e la neve, queste però sono intanto le immagini di un'Italia che più o meno è ancora ferma dal punto di vista meteorologico, andiamo sulla pagina della protezione civile delle Marche per vedere nel dettaglio la giornata di oggi, lunedì 28 dicembre, oggi avremo cielo sereno poco nuvoloso, con nuvole basse, nebbie nella mattinata lungo la costa, in dissolvimento da metà giornata, le temperature sono in livello di minuzione, nei valori minimi, venti di brezza leggera, anche se in realtà ce ne sono pochi, oggi non so se arriveranno tesi da nord occidentali come ci dice la protezione civile, ma insomma mare poco mosso, quasi calmo, attenzione come sempre le foschie banche di nebbia, per domani martedì 29 dicembre lo stesso cielo sereno poco nuvoloso e più o meno è la stessa solfa, dunque probabile invece lieve instabilità per la giornata del 30, seguita da un ritorno comunque del bel tempo dal 30 in poi. Allora, la doccia fredda ieri, la doccia fredda arrivata sull'Isippo, questa statua che si trova nel Getty Museum di Malibu, una statua che è stata pescata nel 1964 da un peschereccio fanese, in molti di voi sapranno la storia dell'Isippo, però sembrava quasi fatta, sembrava che il museo dovesse restituircela, invece è arrivata la doccia fredda. Tutto da rifare, questo si potrebbe sintetizzare così e questo potrebbe essere il titolo. Si ricomincia tutto da capo, scrive il resto del Carlino, la Cassazione ha annullato la confisca per vizio procedurale, dopo otto anni dunque il caso torna al Tribunale di Pesaro. Non rinunceremo, dice Silvia Cecchi, il PM che nel 2010 riuscì ad ottenere la confisca dal Jeep Mussoni. La storia, una nave greca affonda nell'Adriatico perdendo il suo carico, nel 1964 un peschereccio fanese recupera la statua venduta negli anni 70 appunto, come dicevo, al Getty Museum. Siamo a Los Angeles. Nel 2008 il Jeep respinge la richiesta di confisca della Procura, nuovo ricorso nel 2010 che è stato accolto, ma gli avvocati del Getty vanno in Cassazione, vizi di procedura e dunque tutto azzerato. La cronaca con questo articolo sulla pagina 5 del resto del Carlino di oggi, l'ITI per la custodia dei figli, un Natale con i carabinieri, vengono raccontati non un caso specifico, ma sei interventi, sei interventi dei militari nelle famiglie per allontanare marito e moglie in rotta che si stavano insultando e capigliando per la custodia dei figli minorenni. Poi c'è invece la notizia di un incidente che si è verificato ieri intorno alle 18.30 tra Fano e Pesaro, un incidente che ha visto coinvolte 5 persone ferite, una donna è in prognosi riservata. L'altra pagina invece del Carlino è per il capodanno fanese, un capodanno definito stellare con il baritono Nicola Alaimo, un doppio appuntamento a Fano alle ore 17, a Pesaro alle ore 21, da Mozart a Rossini, le aree più celebri senza dimenticare anche il genio di Donizetti. Poi Banca Marche, pronti i ricorsi al Tar del Lazio, ma la sorpresa non ci sarà, cancellata per decreto sugli atti di risoluzione, il 21 di gennaio scade il termine per un ricorso al Tar del Lazio per i provvedimenti presi domenica 22 novembre da Banca Italia con l'azzeramento di azioni e obbligazioni subordinate. Intanto gli affari d'oro sono soprattutto per gli avvocati. La segreta trattativa per recuperare i tesori. Qui si parla oggi di un articolo tra l'altro molto interessante del furto avvenuto a Palazzo Ducale di Urbino il 6 febbraio del 1975. Furono rubate tre opere, La Flagellazione, La Muta e La Madonna di Senigallia. Tra l'altro c'è un libro appena pubblicato, Dossie di un furto, Le Verità Taciute di Agnese Vastano con ricerche documentali di Andrea Bernardini che ci racconta come la storia del furto di questi tre dipinti di Urbino si sia risolto bene ma non per un caso e nemmeno per fortuna ma per amore. C'è anche questa intervista a Chiarini, brigadiere all'epoca dice fu interpellato Forlani, volevano 150 milioni subito. Grazie all'antiquario Balena tenne i fili aperti con la Svizzera e riuscimmo a riavere queste tre opere senza pagare nessun riscatto. Andiamo adesso invece sul Corea Adriatico. La pagina di Senigallia sbanda nella nebbia e un'auto finisce in bilico sul ciglio. Guardate la fotografia. Si tratta di un Audi che è finita fuori strada a Montignano. Il terzo caso e scoppia adesso la polemica dei residenti. Poi sopra invece il saluto, il saluto in una cattedrale gremita ieri pomeriggio a Senigallia per il congedo di Monsignor Giuseppe Orlandoni, il vescovo che per quasi 19 anni, il vescovo della diocesi di Senigallia appunto ha retto e ha portato avanti tutta la diocesi. Restate fedeli nella carità, tocca a voi tutti, dice Felice ma anche un po' commosso. Andiamo sulla pagina di Pesolo del Corea Adriatico. Nuove assunzioni, l'85% sono precarie, dice Simona Ricci della CGL, parlando di una ripresa che è ancora lontana. Alla provincia manca un progetto lungimirante, dice. Con l'amministrazione resta comunque aperto il tema della riconversione delle ex aree industriali. Speriamo che delle noci, l'assessore, tenga fede alla promessa della riduzione delle aliquote sulla tassazione locale. Andiamo sulla pagina di Urbino dove tiene ancora banco l'albero della discordia, questo albero dove vedete in questo fotomontaggio del Movimento 5 Stelle di Urbino è stato messo sulla punta non la stella ma l'assessore Crespini. Conflitto da desinnescare, la vera bomba, dice un rappresentante di Sinistra Unita, Torrico, dice la vera bomba che minaccia la giunta Gambini. Poi sempre sulle pagine del Corriere Adriatico, andiamo su quella di Fano, guardate come hanno ridotto giovanissimi annoiati, evidentemente che non avevano nulla a che fare di meglio che entrare, scavalcare il cancello, entrare nel sagrato della chiesa del Porto, di San Giuseppe al Porto a Fano e devastare questo presepe. Un presepe fatto tra l'altro anche originale, naturalmente sapete tutti la chiesa del Porto, lo dice già il nome stesso, è collocata vicino al mare, quindi è sempre stata la chiesa dei marinai e quindi il parroco Don Gianfranco Casagrande quest'anno ha deciso di fare questo presepe fuori anche molto originale, era praticamente questa grande immagine con Giuseppe, Maria e Gesù Bambino sopra una barca. Questi ragazzini, probabilmente come dice anche lo stesso sacerdote, insomma un po' annoiati, sono entrati e hanno spezzato la testa, sia la Madonna che però è stata ritrovata poco distante e però non si trova tutto l'altro pezzo e quindi di San Giuseppe. Il parroco dice c'è una ricompensa a chi ritrova la parte mancante. Poi il 2016, il 2016 a Fano sarà l'anno dell'arte e della cultura, con l'allentamento del patto di stabilità, Marchegiani punta sul patrimonio in funzione turistica. Pronta la strumentazione della mostra perfetto virtuale, primo passo per il Museo dell'Arco d'Augusto. Poi l'amara sorpresa, questa viene pubblicata sul Corriere di questa mattina, un'amara sorpresa, scoperti 500 mila euro di debite del Comune di Fano, il buco è relativo alle somme accumulate con le cause perse dall'ente pubblico, un risarcimento d'anni a favore di un'impresa, un'impresa che doveva costruire un capannone, poi si ritirò indietro, il Comune nel primo grado di giudizio in tribunale a Pesaro aveva vinto e si era fatto dare 310 mila euro da questa azienda. Poi invece nel secondo, dopo che l'azienda ha fatto ricorso, la Corte d'Appello ha condannato il Comune a rimborsare alla ditta la cifra spesa più gli interessi, 341 mila euro. Poi si arriva quasi a 400 con un'altra, credo che sia un danno per un incidente dove il Comune ha dovuto pagare la vittima. Poi insomma, il messaggero per chiudere la segna stampa, in primo piano si parla di Porto, Porto Pesarese, Porto Insabbiato, danni e proteste. L'anno delle emergenze si chiude con il canale in secca e il fiume Foglia sempre a rischio. Gli operatori chiedono di intervenire subito, buoni segnali dalla legge regionale. Andiamo a vedere poi anche com'è questa secca nel canale, ma in realtà sono arrivate delle fotografie anche alla nostra redazione l'altro giorno. Ecco, lo vedete forse meglio. Questo è Pesaro, ma anche a Fano non è che stia meglio. Anche a Fano il Porto Canale è in secca. Poi c'è un richiamo in prima pagina sullo sport, il basket pesarese, la VL, altro che poker, risveglio amaro a Cantù, la consult invest interrompe nel peggiore dei modi la scia di vittorie contro Vitasnella. Non c'è mai stata gara, nemmeno Dai si salva. Quindi basket amaro. Poi a centropagina questa foto dell'Esippo, questa statua alla quale noi siamo legati, ma il museo se la tiene ben stretta. Il caso dovrà ripartire dal Gip di Pesaro, una strada dunque in salita per il ritorno dell'Esippo in Italia. E poi sotto ancora cieli grigi e nebbia sono le previsioni del meteorologo del messaggero. Allora dicevamo del porto insabbiato, qui si vede bene, guardate che effetto, un effetto, questa fotografia dove si vede esattamente qual è la situazione del porto Canale di Pesaro, un porto praticamente in secca, chiaramente da sistemare con invece il fiume Foglia e il consueto tappo che crea anche apprezzione, soprattutto d'inverno, anche se fino adesso per fortuna non c'è da temere. Porto insabbiato vergogna per la città, il comitato degli operatori nautici spinge per il dragaggio, ghiaia la foce del Foglia, le barche non riescono ad uscire. Poi sempre dal messaggero oggi c'è come sempre l'inserto sportivo, quindi sono poche le pagine per la cronaca cittadina. L'albero della discordia arriva in consiglia insieme al caso Sgarbi. Poi vandali devastano il presepe della chiesa, l'abbiamo visto con la fotografia, la chiesa è quella del porto. Poi scogliere, affano, scogliere e lotta all'inquinamento per Sionistra Unita sarà l'anno chiave. Politiche ambientali, la barriera anti-erosione in via Ruggeri è la prima scadenza secondo il partito. Poi si parla dei migranti, migranti due arrivi in media al giorno, presto un nuovo bando per gli alloggi. Qui vedete il prefetto Pizzi, non tutte le strutture candidate si sono dimostrate idonee, il prefetto ne cercherà altre. Noi ci fermiamo qui, la rassegna stampa è finita, vi do appuntamento questa sera al telegiornale delle 20.30, i giornali invece li torneremo a leggere domani mattina, puntuali, in diretta alle 7.30. Grazie per averci seguito, buona giornata a tutti voi. Grazie per averci seguito, buona giornata a tutti.